Per gli amanti del sonno non sarà un bel risveglio quello che li attende domani mattina, infatti dalle 2 di questa notte ritorna l'ora legale, quindi l'angette degli orologi spostate di 60 minuti in avanti. L'acquisizione di un'ora di luce solare in più, specie per i primi giorni, sarà discapito del sonno. Secondo la compagnia energetica Terna, nei 7 mesi di adozione dell'ora legale in Italia ci sarà un risparmio sui consumi di energia elettrica pari a 543,8 milioni di kilowattora con una stima di risparmio economico equivalente a circa 90 milioni di euro. L'ora legale venne introdotta per la prima volta in Italia nel 1916, adottato ufficialmente nel 1965, aveva una durata di 4 mesi, periodo che nel 1981 fu estesa a 6 mesi fino ad arrivare agli attuali 7 mesi. San Giti da un'apposita legge del 1996. L'appuntamento con l'ora solare, quindi, è fissata per la notte tra il 26 e il 27 ottobre prossimo. Ricordate di spostare avanti gli orologi e se per un giorno dormiremo 60 minuti in meno, pazienza, ci abitueremo.